ciao amici amiche del segno del cancro benvenuti su exotericordio sono angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno approfitto subito per fare gli auguri a tutti quelli che compieranno gli anni proprio in questa settimana tanti tantissimi auguri vi ricordo prima di iniziare che questa è una stessa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi che utilizzo nella lettura in descrizione trovate i link per acquistarli sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della sibilla italiana e inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale adesso andiamo a scoprire cosa vogliono dirvi le carte troviamo l'indicazione del di questi uccellini e del della nave o battello effettivamente si vede un'energia di cambiamento di evoluzione qualcosa può scaturire proprio da informazioni comunicazioni cose che si possono muovere abbastanza in fretta possono esserci dei contrattempi dei problemini però in riferimento a questa carta spesso si tratta di qualcosa che arriva a noi riguardo terze persone quindi possono coinvolgerci in parte o no comunque in qualche modo si vede questa bella energia di qualcosa che si sta muovendo può essere un viaggio vero e proprio la programmazione di un viaggio altrimenti possono essere le cose positive dei miglioramenti dei cambiamenti riguardo a seguire i vostri desideri e quindi avere molto più entusiasmo voglia di avventura di fare qualcosa di diverso dal solito ecco qui c'è questa nuova carica di energia per voi vediamo cos'altro vogliono dirvi troviamo la dama la dama e tutte volte insomma che esce una figura effettivamente in questo caso può essere una vostra specifica energia indipendentemente che dal fatto che state uomo o donna è lo stesso energia comunque sensibile molto delicata creativa certo probabilmente di sfruttare le vostre capacità e i vostri talenti e soprattutto intelligenza e saggezza per superare alcune situazioni che sono in stallo quindi bloccate oppure dei ritardi degli ostacoli in genere magari c'è qualcosa purtroppo che si sta muovendo abbastanza lentamente però queste sono comunque carte che indicano un possibile superamento e cioè se non vi lasciate bloccare effettivamente o una persona in realtà oppure le vostre stesse energie vi aiuteranno a superare questi ostacoli può anche darsi effettivamente che ci sia l'aiuto effettivo e materiale da parte di qualcuno però insomma dipende queste comunque sono energie generali lo dico sempre e può riflettere qualsiasi ambito della vostra vita dalle relazioni all'amore al lavoro e altre questioni quindi loro vi fanno capire che effettivamente con alcune vostre caratteristiche con la fiducia la costanza la pazienza la creatività riuscirete a superare questi ostacoli altrimenti potrebbe esserci anche una persona che vi dà dei consigli e giusto supporto e allora di sicuro comunque ci riuscirete settimana impegnativa questo è vero e inoltre i segni da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di terra quindi toro vergine e capricorno questi sono proprio quelli principali principali più un pochetto anche quelli di acqua cancro scorpione e pesci adesso vediamo l'ambito amore coppia single e poi il lavoro troviamo domestico spesso si riferisce a situazioni tutto sommato tranquille da un lato oppure quando si svolgono le solite faccende quindi vuol dire che alcune cose effettivamente si muoveranno come voi le avete programmate nel corso della settimana fatto che ci sia la carta dell'artista vuol dire che può esserci sia un miglioramento in situazioni abbastanza strane anche di essere coinvolti in progetti di lunga durata e un'altra cosa importante è che riguarda tanto delle rivelazioni delle riflessioni che magari si rifanno molto all'affidabilità alla disponibilità a voler procedere passo dopo passo insieme verso un progetto un cammino in particolare dipende in realtà che cosa state passando perché alcune di queste carte possono indicare un momento una fase critica dove ci sono delle situazioni incerte dove magari non c'è abbastanza o intesa comunicazione o non si va tanto d'accordo su una questione nello specifico però comunque c'è una una base c'è un impegno a qualcosa magari famiglia eccetera però si devono effettivamente superare in questo caso alcune situazioni altrimenti possono essere situazioni esterne cioè se tutto procede per il verso giusto magari sono situazioni esterne che possono mettersi in mezzo alle cose che voi avete programmato però insomma dovete solo cercare di intercettare subito che cosa c'è che non va e risolverla immediatamente per quanto riguarda invece i single troviamo amica lettera e pensiero allora il fatto che ci sia l'amica può voler dire delle questioni piacevoli e interessanti da trascorrere con delle persone amiche in genere amiche o amici comunicazioni e dei pensieri pensieri un po particolari questa soprattutto nelle questioni sentimentali porta un po di incertezza nel senso che magari stiamo cercando di prestare attenzione di essere prudenti di valutare un qualcosa che ci sta accadendo oppure che è accaduto precedentemente quindi per chi ha ancora qualcosa in ballo dal passato oppure se ci sono nuove situazioni effettivamente dalle comunicazioni se non ancora se non vi vedete se non c'è altro al momento oppure se avete possibilità comunque quello che sta accadendo vi mette un po così pensiete un po pensierosi e state valutando atteggiamenti e situazioni può anche darsi che alcune comunicazioni possono arrivare da un'altra persona e anche qui cercate sempre di capire da da che pulpito arriva se certe cose sono attendibili o meno se ci si può fidare o meno dalle vostre energie principali vedendo che effettivamente c'è qualcuno che vi può aiutare vi può consigliare dare il sostegno giusto magari appunto potrebbe esserci anche una persona che vi può aiutare in queste situazioni altrimenti comunque sono energie un po di protezione soprattutto nelle cose passate e soprattutto se c'è un po di confusione nella vostra vita sentimentale in questo periodo in questo momento magari meglio appunto staccare un po la spina e distrarsi per le questioni più pratiche abbiamo delle sorprese sorprese che più che altro vogliono dire soddisfazioni vuol dire degli ottenimenti effettivamente qui può voler anche dire che si stacca la spina per divertirsi per andare altrove e staccare dalla dal lavoro però se continuate a lavorare effettivamente qui c'è soddisfazione il fatto che ci sia sorpresa magari per alcuni di voi sono buone notizie sviluppi positivi miglioramenti recupero probabilmente di di denaro o di magari lavoro arretrato cose in particolari poi in particolare scusate ci sono anche delle questioni legate a incontri importanti incontri importanti perché magari per chi è in cerca di lavoro qualcuno che vi può aiutare sostenere pure insieme portare avanti un progetto quindi sia chi ha il lavoro e lo vuole cambiare o chi ha il lavoro vuole compensare con qualcos'altro perché qui si vede proprio forse entrate extra perché tante carte qui indicano proprio l'arrivo di denaro che va oltre il proprio lavoro o anche qualcosa di particolare effettivamente aspettatevi queste queste sorprese queste soddisfazioni legate sia al denaro sia ad apprezzamenti per quello che state facendo in questo periodo si conclude qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare e quindicinale alla prossima vi auguro una buona settimana ciao